Un comune nel cui si facciano tutte le pratiche, da A alla Z, perché oggi con l'informalizzazione con i personal congiunta si può fare questo e ben altro. Come è capitato a qualche persona anziana che andando a ritirare la pensione da statuta, la carta di identità, questa persona non ha potuto ritirare la pensione perché, essendo anziana, non si poteva ritirare prima alla stazione centrale, venire poi a Casore, da Casore rifare tutto il ciclo. Quindi noi questi servizi li vogliamo seriamente decentralizzare, ma non decentralizzare, centralizzarli nella sede comunale, con impiegati, con un prosindaco o come lo volete chiamare, una persona incaricata da sindaco, con telega a tutto e quindi sarete autonomi, saremo autonomi, senza più venire a Casore. Allora, grazie. Massimo, qual è la tua prospettiva? Allora, io voglio salutare a tutti i presenti, ringrazio il professor Paladino per aver organizzato questo incontro, l'ingegnere giudice, che veramente mi dà la possibilità di dire alcune cose che io ci tengo soprattutto da qui. Rispetto all'appello che faceva Enzo, volevo dire una battuta, noi i manifesti stanno sulla postazione di Ferrara. Capisco che in queste ore hai preso, hai incassato l'appoggio di Ferrara e quindi mi riguarderò a toglierli da Ferrara e quindi, no, no, e alla fine voglio sottolineare anche questo, capito? Che tu in queste ore hai incassato anche l'appoggio e il sostegno di Stefano Ferrara. Allora, parliamo invece di Arpino, che è una cosa importante. Arpino, vedete, io in queste settimane che abbiamo fatto campagna elettorale, ho riscontrato con grande sensibilità questa problematica e ho sempre detto che Arpino, mi sono anche sforzato a non dire sempre Arpino, perché, ma a chiamarla Casore, quindi identificarla in Viaggiotto, in Via Nazionale Puglia, il Parco dei Pini, cioè per cercare di farsi anche mentalmente, che noi dobbiamo superare questa questione che mi sembra, io ho sempre detto, mi sembra una questione meridionale, no, Arpino, sembra una cosa distaccata, un qualcosa che è dizzata e quindi noi, tant'è vero, non ci siamo stati nemmeno sul ragionamento del pro sindaco, dell'assessore al decentramento, sembrava sempre un discorso della vecchia politica delle pretende, cioè di dare qualcosa a qualcuno solo perché ovviamente ha caratterizzato per vent'anni questo tipo di politica, anche perché poi chi oggi sostiene, il buon Enzo Carcola, è colui che ha fatto il presidente della circoscizione di Arpino con il centro-sinistra e ovviamente sono problemi che ci portiamo da vent'anni. I problemi di Arpino sono semplici da individuare, i problemi sono difficili da realizzare, ma noi abbiamo le idee per realizzarli, perché noi abbiamo detto dall'inizio della campagna elettorale per unire queste due realtà, Casoria Centro e quest'area, ovviamente la prima cosa dobbiamo insistere e dobbiamo portare a tema il progetto di trasporto interno, perché solo in questo modo possiamo far sì che la gente, non ci chiediamo oggi che la gente per arrivare a Casoria col pullman deve arrivare a Napoli, prendere un altro pullman e poi arrivare a Casoria, e questo è assurdo, è una cosa che dura da vent'anni. E la stessa cosa per i servizi dei centrali, già ci sono i servizi dei centrali, dobbiamo rafforzare questo ragionamento, ma anche con un sistema di informalizzazione attraverso le government che ci sta, ci sono progetti che sono stati finanziati dalla regione campagna. E c'è anche la questione di Arpino per quanto riguarda la sicurezza, la viabilità, ci sono questioni che riguardano, questioni ataliche, riguardano il subvia nazionale di Puglia, un traffico dove mi hanno sempre detto gli incontri che ho fatto, anche stati dei momenti che gli imprenditori volevano insieme creare un fondo, sostenerlo autonomamente affinché si facessero delle rotonde ad Arpino. C'è la questione della biomassa che è la questione che ovviamente andrà a risolvere all'opposizione, voglio dire andrà a risolvere poi Enzo Carfora se vincerà insieme a Ferrara, che è la questione della biomassa che ovviamente ci portiamo in una situazione veramente paradossale che dobbiamo risolvere perché dobbiamo individuare e subito fare un tavolo con l'Alin e dobbiamo chiedere la dislocazione con forza di questo tipo di discempio che si è creato su questa realtà. E ovviamente in questo dobbiamo essere forti e determinati. Ho detto insieme a tutti i cittadini quando mi sono incontrato con la Codacons, ho detto noi ovviamente faremo la battaglia per dislocare questa bruttura sotto l'aspetto della salute per la gente come hanno fatto qui a Casalnuo e abbiamo la forza perché noi riteniamo che con questa filiera che vogliamo creare con il centro-destra della regione Campania, la provincia e anche a Casoria di risolvere questo problema come hanno risolto a Casalnuo. Io ovviamente avrei tante cose anche da dire, dimmi tu i tempi. Ah va bene, ok, io finisco un po'. A proposito, per la questione della centrale di Massimo vorrei sapere, Massimo ha risposto come intende affrontare il problema di questa centrale. È una centrale che sta sorgendo vicino a una scuola, vicino a dei fabbricanti. Ecco già voi sapete che questa è una zona d'alto rischio, è ad alto rischio per l'aeroporto, è ad alto rischio per l'indotto delle linee elettriche ad alta tensione, per tante. Allora, se noi andiamo anche a far funzionare questa centrale, veramente siamo figli. Io vorrei sapere, ecco, Enzo, come intende affrontare il problema di questa centrale perché venga spazzata via proprio da questa zona. Io incomincierei con una considerazione molto semplice. Io sono medico, in sala ci sono altri medici. L'aderenza tenile viene definita come colui che ricorda cosa di venti anni fa e non si ricorda cosa ha mangiato a franco. Se voi ha una questione nazionale, arteriosclerotico, chiedete cosa hai mangiato a mezzogiorno, non se lo ricorda. Ma cosa ha fatto venti anni fa, oppure la guerra, la seconda guerra mondiale, lui mi racconta che uscite per segno. Ora, imputare a me la centrale abbiomazze che è stata firmata dal suo ex sindaco. Cioè, noi ci dimentichiamo, però ma tu sei stato assessore al bilancio per tre anni del sindaco Ferrara. Tre anni. In questi tre anni sono cambiati diversi assessori. Tu sei stato sempre al tuo posto. Ora spiegaci tu perché stai contro Ferrara. Non devo spiegare io perché Ferrara. La tua amicizia che sei definito il destino di Ferrara, che Ferrara ti aveva candidato al sindaco, ce lo devi spiegare tu perché stai contro oggi. Non perché Ferrara dici di votare verso del bene e lo vieni a chiedere a me. Quindi a me non è né un'offesa né nessuna cosa. Però potremmo sapere perché mi sei candidato contro Ferrara. La centrale Biomazza. La centrale Biomazza parte dal 2009, firmata dall'ex sindaco Stefano Ferrara e dal dirigente Arcella. Benissimo. Questo è l'inizio della Biomazza. Nessuna era conoscenza della centrale Biomazza fino a quando, come tu dici, l'ex presidente della circostruzione Mariano e Marino, ha scoperto questa cosa. Venuta a casa questa situazione, se volete vi racconto tutta la storia, tutta la documentazione. Allora, dopo... il 2009 si firma questa autorizzazione. Prima del 2009 che cosa è stato fatto? Scusa? prima del 2009 che cosa è stato fatto? Scusa? Io lo so, se lo sai, dillo, dillo che non è bene, e denuncialo. Ma l'autorizzazione, l'autorizzazione è... ma che cosa è stata fatta? No! No! Ma l'autorizzazione è... La autorizzazione è di indubire il nome, ma non impidire. Doi un'interazione paralizzata, doi un'interazione paralizzata, doi un'interazione paralizzata, noi vogliamo il confronto. Noi vogliamo ascoltare, sono il Dr. Caspara e il Dr. Caspara. Noi vogliamo ascoltare, non vogliamo ascoltare, non vogliamo ascoltare, non vogliamo ascoltare, non vogliamo ascoltare, noi stiamo qui per un confronto sui problemi, sui problemi tra i due candidati. Per cortesia. I tifosi li fate all'esterno. Ascoltiamo. Prego, prego. Omoverete. Scusate, prego. Allora, continuiamo serenamente, non c'è nessun problema, insomma. Figuratevi. Allora, questa autorizzazione, che è stata realizzata nel 2009, dopo che è stata scoperta questa cosa, abbiamo chiesto, è nato un comitato, anzi, è nato proprio un comitato contro la Biomatte, iniziata con il Codacon, che ha iniziato tutta questa battaglia. sono stati, sono stati, sono stati, chiesti, in diversi modi. Per cortesia, noi dobbiamo ascoltare i due competenti, per cortesia, non è un dibattito, altrimenti non l'avremo chiamato, come lo abbiamo intitolato, ecco, il contatto tra i due candidati. l'avremo chiamato di parte, l'avremo chiamato di parte, con destra, l'avremo chiamato di parte. Prego. Nel 2009 viene firmata questa autorizzazione, poi dopo abbiamo visto il comando dell'incomitato dell'Empiamazio eccetera eccetera, vi chiedete queste cose, è stato interpellato Stefano Cesara che è stato anche chiamato dalla regione per andare a parlare, ma lui non si è segnato nemmeno di andare in regione perché il dirigente era, non so cosa era. Scusami se ti interrompo, allora io ti ho fatto una domanda specifica, come intendo affrontare questo problema e risolvere questo problema? La storia è di un'unica. Se mi si accusa delle biomasse, scusa, io devo specificare che io sono contrario alle biomasse, metterò in campo tutto quello che c'è da mettere per le biomasse, sia legalmente, anche perché due volte che è stata bloccata le biomasse, lo diciamo chiaramente a tutti quanti, non è stata bloccata perché è pericolosa, è stata bloccata perché il sindaco Ferrara ha detto che c'era una sommossa popolare e che il comitato delle biomasse erano dei delinquenti e l'abbiamo attestato a postare per l'ordine utile. La seconda volta l'ha bloccata la dottoressa Leonardo che sta adesso a fare il commissario per le elezioni, quindi la patata bollente, il problema capiterà al futuro sindaco, capiterà a Enzo Cascola. Allora, io dico che la biomasse la bloccheremo in tutti i modi. Grazie. Allora ho un'altra domanda che vorrei fare ai tuoi competenti, che è il problema di distruzione. Il problema già risposto al massimo sull'ordine. Guardate, io dico una cosa, noi io e Enzo Cascola abbiamo condotto una campagna elettorale di grande moderazione. Allora stasera ovviamente ci sono un sacco di diffusi e noi stiamo facendo la nostra partita. Adesso io quello che voglio dire e quello che ho sempre detto è a Enzo non ti devi percorare. Io ho detto solo una cosa, che è sotto ovviamente di queste ore, non ho detto niente di straordinario. Ho detto hai incassato l'appoggio di Stefano Ferraro. Non ti devi percorare su questa cosa. Non deve essere, nemmeno se si, ti prego, mi perdonirà. No, al massimo sono. Le dico tutto, a specie un secondo. Allora, quindi non ti devi percorare su questa cosa. Te lo chiedo con grande correttenza, lo sai la stima che ho, e diciamo di dire, però ho non voluto dire una notizia. Allora, non è fatto di 60, di 40 anni, non ne ho 60. Quello che ti voglio, però la gente deve sapere che ovviamente le culture... ma io non ho detto, scusami, Enzo, scusami, io non ho detto, assolutamente, non ho detto, io facevo l'assessore tecnici, qualche volta l'ho negato che facevo l'assessore tecnici, all'anno e sui dell'abbia massa, io ho detto due cose, l'ho detto dal primo giorno, va bene che mi sono incontrato anche col Codacons, però io l'ho detto anche prima, forse voi non avete ascoltato, ma ascolti la signora, non facciamo polemiche perché non è mio stile fare polemiche, io ho detto il problema dell'abbia massa, siccome l'Arim ha le autorizzazioni che deve avere questa questione, noi subito dopo eletto, ovviamente dovremmo fare un tavolo di concertazione con l'Arim e chiedere come è stato fatto, l'ho detto anche prima per voi, come è stato fatto anche a Casanovo, grazie anche all'intervento del consigliere regionale Gennaro Noce, è stato fatto a Casanovo, sarà fatto anche a Casore e ovviamente dobbiamo chiedere fortemente la dislocazione di questa centrale, punto 1, o chiedere la conversione tipo che anche chiedi fare una centrale, quando si fanno un impianto fotovoltaico, altrimenti io mi metto con le catene affinché questa cosa non si realizza, però tecnicamente gli dobbiamo chiedere la dislocazione e questo è possibile, perché l'hanno fatto anche a Casanovo, quindi lo dovranno fare anche a Casanovo, con la forza ovviamente della regione, quando è detto che questa finiera può essere positiva per tanti risolveri e tanti problemi. Ritorno a, quindi voglio ritornare negli argomenti, io sono venuto qua per dire quello che voglio fare, ovviamente dalle brutture che ho visto in questo, però uno non si deve sentire, scusate ma se per vent'anni, come dal centro-sinistra, che colpa mia questa sera? Cioè io, 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 comunque sono brutture che durano da una vita, se Mariano Marina ha fatto presidente della circostruzione di Alpino del centro-sinistra e le cose sono rimaste qua, mica è colpa mia, scusami, ma è nemmeno colpa tua, attenzione, io ti voglio dare altro, non è colpa del mio né tu, però la storia, la storia comunque questa è, la politica questa è stata, cioè io, come io lo sai, io con te ho un rapporto bellissimo, noi rappresenti, tu rappresenti un modello, ho detto, poi in chiudo con la politica andiamo solo sulla parte del... rappresenti un modello di politica che già si è presso a Casoria, cioè è un dato, non è una cosa, o la scelta che tu sei una persona per vento, come lo sono io, siamo due persone che cerchiamo di lavorare, ovviamente, per il bene della città, questo non lo metto in dubbio, non l'ho mai messo in dubbio, però è un dato, è un fatto, ritornando ai problemi di api, posso? Allora io ho detto, ve lo dobbiamo, il problema è la biomassa e questo ve lo ha esposto, il problema, noi dobbiamo risolvere il problema del... guardate, in campagna è stato detto, noi dobbiamo cercare di portare questa città alla normalità, non è possibile che si cammina nelle strade che sono una ruviera, zone dove non ci sta la pubblica determinazione, dove ovviamente ci sta una villa comunale sia a Casoria che a Rappino, diciamo in quest'area, che possono stare anche chiuse, noi dobbiamo partire dalla normalità, accostando la normalità e l'efficienza di questo territorio, i dipendenti, abbiamo parlato di trasporto interno, questo è un servizio che dobbiamo fare subito, anche grazie alla provincia, Enzo lo sa, c'è che il consigliere provinciale si può fare sicuramente un progetto interno per creare ovviamente questo trasporto tra queste due aree, perché altrimenti come li colleghiamo fortemente queste due aree? E quindi il trasporto interno è un punto focale di questo tipo di ragionamento, come anche dobbiamo insieme alla normalità mettere in campo un progetto a medio e lungo termine, un progetto a medio e lungo termine, io l'ho detto dal primo giorno, sono quello delle aree di smisse, anche qua ce n'è una su questo territorio, dobbiamo fare in modo, dobbiamo astrarre ovviamente investitori dall'esterno, dobbiamo fare in modo che si creano, non si fa più i palazzi a Casoria, e che se ne viene colpa mia, e forse ne viene colpa di Enzo, sicuramente, anzi no, forse non è colpa di Enzo, però per vent'anni in questa città ci sono stati fatti sempre palazzi e speculazioni edilizia, questo è un dato che non, e sotto gli occhi lo vedo, dobbiamo cercare di attrarre investitori e creare piccole e medie imprese, altrimenti occupazioni, quando si parla di lavoro, ma come si realizzano? Solo attraverso ovviamente una progettualità, e come diceva il professor Palladino, con la programmazione, ma con la programmazione di E, si porta avanti questo tipo di ragionamento, queste sono le cose da fare, ma le cose da fare subito, e poi ad Arpino deve partire subito la raccolta differenziale, questo subito deve partire, perché non è possibile che questa città è una discarica a Cilapetto, cioè quest'area, è una discarica a Cilapetto, quindi deve partire subito la raccolta differenziale, questa è una cosa che dobbiamo fare e si può fare immediatamente. Sicuramente, ti vorrei passare ad un altro argomento, è interessante quello che ci dice Massimo, ma stavo trattando un problema delicato che è quello dell'istruzione, perché si parte, secondo il mio modesto avviso, dall'istruzione, dall'istruzione, per ovviamente, per migliorare tutto il tessuto soffiale. La nostra è una zona, e io vorrei che i due candidati rispondessero a queste domande, dove esistono due scuole medie e una scuola elementare, la quale scuola elementare ha dei grossi problemi. Voi sapete bene, è allocata attualmente nel poli specialistico che abbiamo qui, e sono accampati i nostri ragazzi, e non si dà una risposta per mettere giù o per rifare quel fabbricato della scuola civiliare. Ma non solo questo, abbiamo il problema, oltre che della scuola elementare, abbiamo il problema della scuola superiore, e do un dato ai due candidati, affinché mi possano rispondere come intendono affrontare il problema. 14 aula al Parco dei Pigni, dove si può avere una scuola superiore, sempre per quel discorso di istruzione e di formazione, per elevare il grado di civiltà di una zona. 14 aula completamente abbandonata. E quindi io intendo fare questa domanda, questa sera. Prima Enzo e poi a Massimo. Ecco, che cosa intendete fare per dare anche questo servizio alla popolazione? Perché i nostri ragazzi, per poter seguire gli studi superiore, devono legarsi al centro di Napoli, con tutti i problemi, e gli annesse connesse, familiari, organizzazioni familiari, economici, e di pericoli per la strada, lo sapete bene questo, voi che siete dei professionisti. Ecco, Enzo, che cosa intendete fare? E poi abbiamo un altro problema, per completare la domanda. Abbiamo il problema della scuola media, Puccini, ancora una scuola che non è passata al Comune. È una scuola nelle mani, ecco, di privati, con tutta la via a giotto che è privata, ecco, ed è un problema grosso, così come noi abbiamo il problema grosso della rete Fognati, un democchio nazionale del repuglio con tutte le traverse. Quindi due domande in una. Ecco, istruzione e servizio, ovviamente, fondamentale delle cognature che noi vorremmo in questa zona. Enzo, tu, ecco, se hai il piacere di fare il sindaco di questa città, com'indendi, ecco, affrontare per risolvere questi problemi nella fascia di Alpino. Allora, inizio dicendo che diceva bene Massimo, già, la politica già, già vista. Infatti, se fincero io, si vedrà una nuova politica. Ma, a parte questo, parliamoci un attimo delle scuole. Sarebbe bello sapere perché la Cimiliarco è stata chiusa per circa un paio d'anni, due anni è stata chiusa la Cimiliarco e i lavori forse sono iniziati adesso. Addirittura girando per la cittadella qualcuno mi diceva ma siamo sicuri che stanno ristrutturando la scuola o stanno facendo qualche altra cosa? Quindi nell'area girava questa voce che la Cimiliarco sarebbe servita per altri servizi. Ma io spero che stanno ristrutturando la scuola. Ristrutturare la Cimiliarco. E perché no, non sfruttare il parco dei vini. Io vorrei sapere qual è il problema che non si possono sfruttare queste aule nuove. Si potrebbe allocare un liceo. Si potrebbe allocare benissimo un liceo. Qual è il problema? Perché in questi tre anni queste cose non sono state viste, non sono state fatte? Io questo chiederei. Per le vie fognate, ma sicuramente trovare una soluzione prima di tutto di economicità. Perché oggi, scusate meglio di me che dirigi, oggi si parla sicuramente degli standard economici, del parco di stabilità e di tutto il resto. Quindi adeguare queste strutture per servire tutta la popolazione di Arpino. e il viaggiotto, la fognatura e tutto. Questa è una questione, ecco, come diceva lui, saranno 30 anni. Camillo, quanti anni sono? Ci siamo. Ci siamo. Allora, sono 30 anni. 30 anni che si fa questa cosa. Io penso che la prima cosa che farò è andrò a capire questa viaggiotto di chi è. Che cos'è viaggiotto? La scuola che tu dicevi, ho saputo l'altro giorno che è stata data al Comune, però se la do con la condizia per l'edificio dell'inventario, è stata data in questi giorni al Comune. Quindi è una situazione che bisognerà andare a vedere bene le responsabilità presenti e passate, perché sicuramente ci sono delle responsabilità, perché non può essere una strada privata ad uso pubblico. Penso che non possa essere. Massimo, come intendo a contare questo problema? Il problema delle scuole è un problema che non è solo un fatto strutturale, però è un problema culturale. Io ho detto sempre la rinascita parte dalla cultura, perché ad Arpino in questi anni ovviamente bisogna, per riqualificare un'aria, bisogna anche identificare nella cultura la riqualificazione dell'aria. Tant'è vero che qualche giorno fa mi sono incontrato con l'amico Antonio Manfredi del Museo CAM e lui, ovviamente, sapete che anche là quella è un'altra situazione molto vecchia, che si trova in una situazione che non può stare in quell'area. Ho detto, guarda, noi ovviamente, io ti darò una mano affinché questo museo sia dislocato verso Arpino. E proprio per dare un segnale, anche per riqualificare un'aria, perché la cultura, l'aggregazione di giovani, parte soprattutto dalla parte delle scuole. Quando si parla pure di raccolta differenziata, parte da là, dalla scuola, perché sono i giovani, le generazioni future, che hanno lo stimolo, ovviamente, di fare le cose. Come uno va a casa e dice, mamma, guarda, dobbiamo fare la raccolta differenziata. Guarda, mamma, dobbiamo fare economia per, come devo dire, la pubblica illuminazione, dobbiamo fare una... E' tutto dall'altro, parte della scuola. Non è vero, io ho letto sui giornali che il sindaco di Firenze, ogni marzerì va nelle scuole a fare in giro con i bambini. Questa è una cosa che io mi sono promesso di fare, ma non a vedere se, al di là, che questo sarà un punto, ovviamente, dei praggio, che dovrà occuparsi l'assessore all'edilizia scolastica, perché in questi anni non c'è mai stato un vero assessore alla pubblica istruzione, anche questo dobbiamo dire. Si parlava solo di edilizia scolastica, e ci dovrà essere un assessore alla pubblica istruzione che veramente ha la capacità di creare cultura su questo territorio. Un territorio che tu sai bene che è fatto di grandi personalità, un territorio che vanta veati, santi, e quindi se non partiamo dalla cultura, questa città non rinasce mai. Quindi questo, per me, tocchi delle corde importanti, perché solo dalla cultura rinasce una città, solo dalla scuola, dall'istruzione, rinasce una città. Al di là di tutte le parti, tutte le parti, ovviamente, infrastrutturali, però la cultura, i giovani, la scuola, è il punto focale di una comunità. Vanno recuperate, come diceva anche Enzo, che sotto gli occhi di tutti, vanno recuperate queste scuole. La Cimigliarco sono parte di lavori, la San Mauro sono parte di lavori, però ovviamente è normale che va dato attenzione alla parte strutturale. Ormai è un dato anche nazionale che la maggior parte delle scuole non hanno il certificato di agibilità. Cioè, questa è una cosa, ovviamente, che bisogna mettere subito mano. Cioè, creare, ovviamente, fondi, e ci sono anche fondi nazionali, per, ovviamente, far sì che le scuole, ma anche gli edifici pubblici, hanno il certificato di agibilità. Non è possibile che io possa mandare la mia figlia, che adesso ha quasi due anni, però, come tutti quanti voi, la voglio mandare in una struttura che, ovviamente, ha sicurezza. E noi questo, ovviamente, avremo modo e abbiamo progetti per portare avanti. Problema sanitario. La nostra zona ha un poliambulatorio. Io ho venuto il dottore Marino, da qualche parte, ha un poliambulatorio. E io ho così varie amicizie all'interno dell'Azla Napoli 2. Mi onore di avere queste varie amicizie. e spesso ho ascoltato delle cose che non è che mi hanno raffreddato.